Innovazione tecnologica e tradizione della lavorazione tessile si incontrano a tela Umbria nel ponte tra presente e futuro, gettato dal rinnovo dei vertici della cooperativa fondata nel 1908 dai baroni Alice Alla Garten e Leopoldo Franchetti. Alla presidenza della storica impresa Tifernate è stato infatti chiamato l'imprenditore Tifernate Stefano Romolini, fondatore e amministratore delegato di Manifatture Cesari, azienda Umbra specializzata dal 1988 nella realizzazione di Cap in Jersey che è punto di riferimento nel settore tessile dell'alta gamma per qualità e digitalizzazione dei processi produttivi. Raccoglierò le eredità importanti dei baroni Franchetti, precursori non solo di una produzione di qualità che ha saputo resistere al tempo ma anche dell'emancipazione femminile e del professor Lagala che insieme alle soci e lavoratrici ha fatto davvero un lavoro eccezionale in questi anni cercando di dare il contributo della mia esperienza nel settore tessile per far crescere tela Umbria, così dichiara Romolini. Diciamo che all'interno del gruppo che noi oggi facciamo parte c'è già una tessitura che è analoga a questa qui che si tratta dell'antica Valserchio in Garfagnana, che già ci sono stati degli scambi tra i personaggi qui, le signore della tela Umbra e le signore su della Garfagnana, che c'è già questo indotto commerciale dove realmente possiamo portare un valore aggiunto nel mondo proprio dell'alta gamma, dei prodotti dell'alta gamma, che solo questo è giusto che una struttura come tela Umbra possa fare. Il cambio della guardia è arrivato a seguito della rinuncia alla rielezione da parte del presidente uscente Pasquale Lagala che, nonostante l'invito delle soci e lavoratrici a rimanere, ha ritenuto concluso il proprio compito alla guida della cooperativa dopo i due mandati ricoperti a partire dal 2016. Il bilancio non è che lo dico io, è positivo, i dati lo confermano e facendo un po' la storia, io avrei dovuto finire a maggio di quest'anno, quindi scadevano i sei anni, su insistenza delle soci che mi hanno invitato fortemente a rimanere per un altro mandato, ma io ho detto che ho finito, diciamo dopo sei anni, ho cercato di dare la dignità, una personalità, uno stile alla tela Umbra e soprattutto di concordare, di una concordia tra le soci che è fondamentale in una cooperativa dove la solidarietà è la parola che deve essere usata di più per poter portare avanti un'azienda, tra virgolette, del genere. Il bilancio è senz'altro positivo, abbiamo avuto cinque anni di positività alla fine dell'anno, il bilancio con un modesto attivo e quest'anno soltanto c'è stato un po' di decremento dovuto alla pandemia, alla guerra, le bollette che da 300 sono passate a 1800, non lo sto a fare lunga, ma il Covid è la guerra russo-ucraina che ha dato la batosta a tutti, non solo alla tela Umbra. D'altronde il problema annoso delle vendite è vecchio e quindi è conosciuto, io ho cercato in questi anni insieme alle soci di tappare, di mettere delle toppe, c'era una situazione senz'altro non facile da un punto di vista sia amministrativo, finanziario, ma anche di clima all'interno della cooperativa e quindi il primo anno io l'ho dedicato proprio a cercare di mettere in sesto la situazione. Poi con l'aiuto naturalmente non solo delle socie ma di tutto il Consiglio dell'amministrazione, in particolare il dottor Rossi che è stato rappresentato del Comune, il Revisore dei Conti, il dottor Ferri, quindi abbiamo cercato di camminare insieme e questo lo voglio sottolineare, è importante nella conduzione di un'azienda.